Fa festa il Grottaglie con due ex, il Manduria perde il derby ma resta a distanza di sicurezza. Per i ragazzi di Molino è l'occasione della svolta che serve per fare sei punti in due partite dopo il successo di Racale e adesso guardare avanti con una speranza diversa. Decidono due ex, accade tutto nel corso del secondo tempo, i primi 45 minuti scivolano via senza emozioni anche per via di un terreno di gioco appesantito dalle piogge degli ultimi giorni. L'emozione più grande è la coreografia iniziale contro la guerra dei quasi mille tifosi biancazzurri presenti al Damuri. Sul campo un cross di Pignatale ma serve a poco perché dopo aver fatto tutto bene tira una fucilata che nessuno può ricevere. Le emozioni, quelle vere, arrivano con gli interessi nel corso del secondo tempo. Dopo tre minuti Malagnino porta in vantaggio il Grottaglie, l'attaccante è Manduriano di nascita, gira un pallone vagante dai 25 metri ed è una rete bellissima, 1-0. I biancazzurri vengono fuori sulle ali dell'entusiasmo, all'ottavo ci prova Conte ma la palla viene respinta dopo una bella azione. Poco Manduria che non reagisce e non riesce a creare alcun pericolo. E allora Conte ci riprova al 24esimo e questa volta passa 2-0. Anche lui ex aveva giocato nel Manduria sia nelle giovanili che in prima squadra. L'assalto finale all'arma bianca non porta a nulla. La festa è del Grottaglie con vista sulla salvezza.